Bene amici, gli eventi continui in questa serata particolare, Night and Lights, siamo in Rione Cardito al bar più bello del mondo con il pasticciere, non proprio più bello ma veramente più bravo del mondo. È un Masterchef, parliamo con il signor Giovanni Forgione. Allora, la sua vita nella dolcezza, io vedo delle opere d'arte, scacchiera, vedo un'aquila meravigliosa, ma da quanto tempo fa questo lavoro? Diciamo circa 25 anni. Così poco. Basta no? Bene, allora cioccolato, il dolce, ma come mai ha scelto il dolce lei? Un mestiere diciamo dove uno può svagare tutto ciò che ha in mente, tutto ciò che puoi realizzare. Vedo che fa delle bellissime forme, quindi io se volessi, adesso la metto in imbarazzo, se volessi fare un regalo a una donna, cosa? Mi porto la sua foto vestita e gliela faccio nuda. Che meraviglia! Tutto questo accade all'incontro, grazie alle grandi qualità di questo signore, ce ne sono tante altre, state con noi e ne vedrete. delle... Musica Musica Amici della sera, quasi della notte, sono le 21.30 e siamo qui al centro commerciale Fontana Angelica e nel pieno cuore di Cardito, il cuore pulsante, siamo sempre a Tereo Nelpino, Night and Lights. Questa sera come potete vedere tutto aperto, c'è tanta gente e pensate un po', abbiamo appena cominciato. Vi assicuro che questa sera ne vedrete e ne sentirete delle belle. Tutto questo da Ariano Irpino, Cardito. Veniteci a trovare. Musica 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 Come vi avevamo promesso, Gigione, Menahit, Donatello, Gio Donatello stanno facendo la differenza a questa Night and Lights, questa sera qui a Rione Cardito. Fra un po' vediamo di parlare con qualcuno a cui piace quella musica di Gigione che è tra l'altro coinvolgentissima. Buonasera, ma mi piace la musica di Gigione. Ma voi lo seguite sempre Gigione? Sì, sempre. È un mito? Sempre, saranno dieci anni che lo seguite. Da dove venite? Da Benevento. Complimenti. Lei è la ballerina, mi sta divertendo questa sera? Sì, sì, sempre. Da quanto tempo segue Gigione? È una vita. Da sempre? Sì. Lei da dove arriva? Da Benevento. Ma cosa vi dà la musica di Gigione? Allegrie e divertimento. Complimenti. Ti piace, ti piace, ti piace che la grido, poi la pagonina la devi fare. Parola, 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 parola. Parola, parola, parola. Parola, 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 parola. Buonasera, buonasera ciao a tutti, per tutti i nostri balsi, tutte le famiglie, per gli altri, per tutti i nostri balschi, 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 per tutti i nostri bals Opa la rota bala, è facile da me spalle Tu us un'endope spalle, è da me cacavalle Ma di una volta incolle, non ha tessere molle Si no fai nisso spalle, si sa fosso gavalle La casa del sudè, in una sorperezza Quando c'è di par compagnia, tutti i giorni a fare vino Quando c'è di par compagnia, tutti i giorni a fare vino E parlo di i giorni, viaggia con trovato E' un'endope spalle, ma giù ma già stupare Ma già un'endope spalle, ma già un'endope spalle Ma già un'endope spalle, ma già un'endope spalle E' un'endope spalle Si no fai niente شugare E' un'endope spalle Ma che va niente a me E' un'endope spalle Ma che va niente a voi E' un'endope spalle Ma che va niente a me Di a vend lembo Ma che va niente Valorina bellissima Sei la nostra divina Non lasciarci mai più Facciamo un grande applauso per la bottella della canna di Michele Totolo Un grande applauso, vai! Un grande applauso a tutti i commercianti A tutti i negozi che hanno organizzato questa bella serata Voglio sentire un applauso, forza! Amici, appena finito lo spettacolo stasera Gigione, Giotto Amatello Non c'è due senta tre, Angolo la bellezza Abbiamo Amatello, come stai? Tutto bene, grandissima serata Facciamo un po' freddo ma i nostri ascoltatori I nostri fan ci hanno riscaldato con il loro calore Quindi è veramente una bella serata Ascolta, ancora una volta un grande successo Io l'ho chiesto già a Gigione e a Giotto Amatello Ma secondo te, perché? Eh, perché? Perché? Perché convolgiamo un po' Tutte le età, dei bambini Dalle signore, dai ragazzi, dalle nonne Perché facciamo un genere tutto particolare Un po' il nostro, quindi Diciamo che ci riferiamo a un determinato tipo di target Quindi per questo E ci è andata bene, quindi accontentiamo un po' tutti, no? Intanto mi complimento con te, veramente Vieni il palco, è una meraviglia Ascolta, fatti un regalo per Natale Cosa vorresti per Natale? Mena, cosa vorresti? Il regalo lo faccio ai miei fans Visto che uscirà il mio secondo album Quindi lo faccio ai miei fans Che lo stanno aspettando dopo tre anni dal primo E il mio regalo Non lo diciamo, dai È il titolo dell'album? È l'amore che ci vuole sempre nella vita, dai Un po' in generale È il titolo dell'album? Ancora un segreto Va bene, intanto in bocca al lupo Buon lavoro e complimenti Un bacione a tutti gli ascoltatori Ciao Dopo la notte delle luci Con questo grande successo Gigione, Giodonatello, Mena It Vi ricordo i presepi scolastici Ancora insieme al Consorzio Erpiniacom E vi ricordo tante altre belle piccole cose Intanto continuate a guardarci Perché ne vedrete delle belle Tanti amuri a Giodonatello Tanti amuri a te Grazie, grazie Le mani sulle spalle Lup, bu, bu A ciappa piglera Lup, bu All'angelo, grazie Gioca Natale, bui giorni Grazie Ciao